Ciao a tutti! Oggi realizzeremo insieme i pancake. Gli ingredienti per realizzarli sono 130 g di farina, un uovo, un cucchiaio di zucchero, 30 g di burro, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di lievito, un pizzico di sale, 150 ml di latte, 50 ml di acqua minerale frizzante e in più ci servirà una noce di burro per imburrare la padella. Quando scegliete l'acqua minerale ricordate che ognuna è unica e diversa dalle altre perché proviene da territori diversi che le conferiscono un mix unico di sali minerali. Oggi per esempio ho scelto un'acqua frizzante con un perfetto mix di sali minerali equilibrato per tutta la famiglia, Nestlé Vera. Per preparare i nostri pancake setacciamo la farina, il lievito e il bicarbonato. Uniamo l'uovo, lo zucchero, il sale, il burro fuso, il latte e l'acqua minerale frizzante, mescoliamo tutto fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Lasciamo riposare per un'ora, dopodiché scaldiamo una padella appena imburrata. Versiamo al suo interno un mestolo di pastella. Quando vedrete comparire le prime bolle, girate il pancake e lasciatelo cuocere sull'altro lato. Continuate a cuocere i vostri pancakes fino al termine della pastella, poi impilateli e cospargeteli con sciroppo d'acero, marmellata o ciò che più preferite. Ecco pronta la nostra montagnetta di pancake, perfetta per iniziare la giornata insieme a tutta la famiglia.